Soprani 3 è il numero dell'otto, ve lo dico subito amici, quindi cominciate a telefonare perché vi proponiamo tutto questo firmato Luciano Soprani, non è un qualcosa di qualsiasi cosa, ma Luciano Soprani, 119 mila lire, 119 mila lire per avere un caldo e morbido che misura 180 per 180, quindi un bel quadratone in pile e poi c'è tutta questa bella cornice che ci ricorda proprio lo stile romano, in cotone 100%, l'otto Soprani 3 amici, l'otto Soprani 3, 119 mila lire, 119 mila lire per quello che è il pile, un caldissimo tessuto che viene usato anche dagli sciatori, si usa soltanto una giacca, una camicia in pile e non occorre nient'altro perché si sta caldissimi, un qualcosa di molto bello, decorativo, potete metterlo per terra come un tappeto per farci giocare i vostri bambini, potete appunto metterlo come arredamento su un divano, potete appoggiarlo sul vostro letto, in camera da letto appunto, potete usarlo come plaid, sono tantissimi gli usi di questo caldo e morbido, quindi un grandissimo, bellissimo caldo e morbido in pile con queste belle decorazioni a tono, con questa bella cornice in cotone 100%, con questa stampa in serigrafia centrale che rappresenta appunto il dio a pollo, quindi 119 mila lire, un prezzo veramente basso considerando che si tratta di un qualcosa di firmato, da un grandissimo stilista italiano, uno stilista apprezzato in tutto il mondo, che fa delle cose veramente di classe ed è giusto per questo che l'abbiamo ospitato in questa bellissima casa. 119 mila lire amici, 119 mila lire, il lotto è il Soprani 3, quindi segnalatelo alle centraliniste per una nostra comodità interna, guardate che in queste televentite veramente vi presentiamo delle cose di classe e oggi direi siamo riusciti al massimo, voglio ancora ripetervi questo prezzo perché io trovo sia sbalorditivo, pile e cotone firmato Luciano Soprani, 119 mila lire, telefonate subito!